ciao a tutti e benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi non vedremo una maglia da calcio ma bensì le nike air jordan bianche con rifiniture nere in questo caso l'abito non fa il monaco per fortuna in quanto la scatola è arrivata un pochino rovinata però internamente devo dire che le scarpe erano perfette e ora vediamo insieme qualche foto per i dettagli le scarpe sono bianche con questa bella rifinitura nera che in realtà non è nera ma di un materiale iridescente sulla linguetta c'è l'immagine simbolo di michael jordan che contraddistingue questi questi modelli lateralmente si vede il marchio delle air jordan la suola e l'intersuola sono di gomma bianca nella soletta di colore blu scuro è presente il simbolo di jordan allora cosa ne pensate secondo me sono molto belle sono fatte bene semplici ma eleganti con questa bordatura nera se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti ora vi saluto ciao ciao